Fausto Martorella ufficializza la sua candidatura per le prossime amministrative nel Comune di Capoliveri. La decisione è data sicuramente dal fatto che Capoliveri ha la necessità di cambiare. Ormai sono troppi anni che abbiamo una solita compagine, solite persone e credo che Capoliveri abbia bisogno di un rinnovamento, di guardare al futuro e di avere persone giovani, nuove, con idee nuove che possano portare il Paese ad avere una marcia in più. Il sindaco uscente Barbetti ha già ufficializzato anche lui la sua candidatura. Quando è uscita la sua lista si è parlato di una lista anti Barbetti. È veramente così? No, assolutamente. Quello che noi stiamo mettendo in campo è un gruppo giovane, nuovo, di persone che vogliono fare, di persone che hanno dato la loro disponibilità con un vero senso civico a migliorare il nostro Comune. Barbetti ha sicuramente fatto storia nel nostro Paese, ma crediamo che oggi sia la fine di un'era e bisogna guardare avanti, bisogna guardare a quello che possiamo fare, le potenzialità che non abbiamo sfruttato e questi giovani hanno tutte le capacità per dare quelle risposte che oggi Capoliveri sta cercando e che per troppo tempo sono state disattese. Che tipo di lista sarà? Avrà l'appoggio di PD e SL e quindi sarà una lista che avrà un appoggio politico ben definito o si parla di lista civica? Assolutamente si parla di lista civica. Noi riteniamo che i partiti siano importanti, ma come importanti sono le associazioni, tutte quelle persone che fanno nel nostro Comune del volontariato sono attive. Comunque ogni singola persona è necessaria, quindi noi cerchiamo l'appoggio del cittadino che recepisca quali sono le nostre linee programmatiche, cosa vogliamo fare per il Paese. Quindi benvengano i partiti se ci vogliono appoggiare, ma rimariamo su una lista civica che deve fare il bene del Paese. Quindi tutti quelli che vorranno fare il bene del Paese speriamo che ci diano il loro consenso, al di là di quale sono le loro rappresentanti personali e politiche in altra fascia. Noi ci candidiamo con una lista civica che guardi al futuro e al bene del Paese. Martorella annuncia di avere alcune idee importanti per il territorio, che per ora possono essere definite solo idee e obiettivi per il programma, perché un manifesto compiuto insieme al suo gruppo sarà definito dopo la campagna di ascolto e dai risultati delle consulte di quei soggetti, singole persone, associazioni o gruppi che intendono confrontarsi con loro.